In finale la percezione di piaggio da bambino ce l'ho in una certa maniera, noi ragazzini Quando uscivamo 12, 13, 14 anni e andavamo in giro, andavamo a giocare a spiaggia, andavamo in giro La sirena quando suonava era il segnale che i genitori arrivavano a casa e bisognava camminare di corsa a casa Quello era il segnale dei bambini, la pioggia quando suonava la sirena era come carosello, quando suonava la sirena a casa L'effetto grande famiglia esisteva perché comunque con tantissima gente Aveva i rapporti anche esterni, quindi l'effetto grande famiglia c'era, poi come in tutte le aziende dove ci sono 2000 dipendenti Non vai d'amore d'accordo con tutti, ma è normale che sia così, però l'effetto grande famiglia esisteva Esisteva proprio perché ne venivamo tutti dalla vallata del finalese, finale, calice, eravamo tutti di lì I miei genitori, mia mamma era di calice, tantissimi suoi amici lavoravano lì dentro, mio nonno ci aveva lavorato Mi raccontavano ai tempi dei vagoni ferroviari, c'era una storia via dietro La Piaggio tanto aveva una caratteristica nel settore aeronautico quasi unica al mondo Erano 4 o 5 aziende in tutto il mondo a produrre sia motori che vellivoli Questa è una cosa che va detta perché quasi tutte le aziende a livello mondiale o fanno motori o fanno vellivoli Lì esistevano due settori molto diversi uno dall'altro, proprio come tipo di lavorazione, come materiali Proprio assolutamente diverso Prima di arrivare alla crisi di settembre del 90 abbiamo vissuto un periodo sostanzialmente abbastanza buono Lavoravamo per paesi arabi, per l'Iraq facevamo ancora i 166 e li vendevamo in Iraq Quindi la produzione era messa abbastanza bene perché in giro c'erano tante guerre E' triste dirlo ma chi opera in aziende militari, nel settore militare, ahimè la guerra fa bene a quel tipo di industrie Non è bello ma è così Poi la crisi degli anni 90 è l'esatto contrario, il disarmo Il disarmo entra in crisi il settore militare, quello che alla fine porta parecchio denaro E quando nel settore militare si riducono quei soldi, riducendo le entrate, solo col civile non vivi E quindi ebbe quel tracollo Fu un decennio drammatico Dramatico perché Quando io ricordo perfettamente quando ci annunciarono a settembre del 90 Ci annunciarono lo stato di crisi Inizialmente forse non l'abbiamo presa L'abbiamo presa un po' sotto gamba Nel senso che abbiamo subito pensato che fosse qualche trunco per recuperare fondi da qualche parte Non ci siamo subito preoccupati così tanto Abbiamo iniziato a preoccuparci quando sono cominciate ad arrivare le casse di degradazione La gente è cominciata a rimanere a casa Sono cominciate a saltare gli stipendi Allora lì è stato panico Quando entrammo in legge prodica capimmo che la situazione era veramente drammatica Per fortuna cosa che ci salvò Che un po' di lavoro ce l'avevamo Continuavamo a lavorare nonostante gli scioperi Nonostante le lotte Alcuni erano fuori a bloccare la strada E altri erano dentro a produrre anche senza stipendi Per cercare di fatturare Perché poi alla fine la cosa che dovevamo fare era fatturare E il fatto che avessimo commesse con l'esercito E facevamo proprio la revisione delle frecce tricolori Degli addestratori Di quelle cose lì Ci ha permesso di andare avanti E poi è entrata intorno al 2006-2007 Sono entrati gli arabi praticamente Con la famiglia di Abu Dhabi La famiglia al-Zayed E da lì sono cambiati completamente gli scenari Mentre prima anche a livello interno Se avevi un problema Se avevi bisogno di discutere di stipendi Esistevano le famose vertenze interne Perché il proprietario era la palazzina sopra dove lavoravi Quindi comunque avevi un interlocutore Oggi è molto molto più difficile Perché gli interlocutori sono nella rabbia E difficilmente aveva bussato alla loro porta Quindi loro fanno tutto quello che hanno interesse di fare E che anche probabilmente nel loro diritto è fare Visto che sono i proprietari Però non hai più la possibilità di interfacciarti Ti interfacci con dipendenti Lo spostamento è stato lunghissimo il tempo di attesa Perché se ne è parlato per anni e anni Io la prima volta che ho sentito parlare Dello spostamento di un possibile nuovo stabilimento a Villanova Era intorno agli anni 99-2000 Che si prospettava di questa possibilità Poi era partita una certa accelerazione E sembrava che di anno in anno Sono passati ancora 14 anni Prima che arrivasse lo spostamento vero e proprio L'ho vissuto in prima persona Perché ho collaborato come tutti gli altri A smantellare finale e a costruire Costruire intendo a trasportare tutto quello che c'era a Villanova Come tutti gli stabilimenti nuovi Sotto profilo logistico è 100 volte meglio È una meraviglia Molte cose non sono state fatte bene Sono state fatte molto molto male Per quanto riguarda finale Finale io quando passo di davanti Dico una frase in dialetto Tristezza Vedere tutto smantellato Tutto una tristezza Quindi tutti speriamo che Inizino a fare qualcosa A fare lavori Tutti speriamo che il famoso hangar Rimanga come sembra Alla comunità per fare musei Per fare congresso Per fare quello che decideranno di fare Perché l'hangar è una struttura fantastica Molto vecchia ma fantastica Con dei cementi armati Travi di cemento armato È molto particolare come struttura C'è stato qualche momento di tensione Bruttissimo Per chi la vive Da operaio Che Quello che fa è cercare Di Portare l'attenzione del governo Al tuo problema Tutti gli scioperi Che erano fatti sul blocco della strada In realtà avevano lo scopo Di un incontro Con la presidenza del Consiglio Incontri che poi negli anni Ce ne sono stati diversi Quindi Quando bloccavamo la strada Sapevamo perfettamente Che bloccavamo la strada Anche ai nostri concittadini Faceva più dispiacere a noi Probabilmente Che agli altri E quindi quando facevamo Quegli atti lì Le facevamo col cuore Veramente stretto Io ricordo veramente Quei periodi Con una tristezza incredibile Facevamo assemblee Dove bisognava prendere decisioni Decisioni che a nessuno di noi piacevano Ci fu una strategia di solidarietà Che aveva Noi avevamo una mutua interna Dove tutti noi versavano Una quota Per poi Prendere In caso di malattia Di medicinali Di visite specialistiche E un po' la comunità Se non ricordo male L'Avis Perché finale All'Avis Cioè la piaggia di finale All'Avis Dava tantissimi Tantissimi donatori E la mutua interna Misero a disposizione Però ad oggi Io non so Chi ne ha usufruito Misero un comunicato Dove dire Se qualcuno Avesse avuto Quel bisogno Impellente O dell'affitto O del mangiare Di presentarsi In maniera totalmente Anonima E oggi Siccome era in maniera Totalmente anonima Non so Se qualcuno Ha usufruito Di questo servizio O se non l'ha Usufruito L'avevano fatto In maniera Molto intelligente Per evitare Di mettere in imbarazzo Qualcuno Quindi Se fosse accaduto Se qualcuno Non avesse usufruito Non si è mai saputo Qualcosa ci fu